salve a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video facendo uscire il cane e niente oggi andiamo a vedere la manutenzione della catena quindi pulizia ingrassaggio e vi spiego come lo faccio io ci vediamo tra poco ti sei iscritto al canale hai messo like e attivato la campanellina aspettiamo eccoci qua ragazzi come vedete abbiamo petrolio bianco ingrasso per catena un recipiente per mettere il petrolio bianco qui abbiamo il pennello dove sta eccolo qua il pennello e volendo anche la spazzolina per la catena queste sono diciamo tutte le cose che ci servono per fare la manutenzione della catena e ora non ci resta altro che prendere un po di petrolio bianco ce lo mettiamo qui dentro come vedete ragazzi ho messo anche dei cartoni sotto per non sbloccare un cavalletto se lo avete è meglio che fate molto molto prima e niente andiamo adesso a curire la catena ok adesso facciamo la parte interna della catena prendete un panno che non vi serve più e date una bella asciugata alla catena prima lo pari da togliere tutto l'eccesso del petrolio bianco ok diciamo che è venuta bella pulita adesso vi faccio vedere non so se sia riuscito a vederla è venuta bella pulita ora aspettiamo che come vedete ancora sta gocciando un po' aspettiamo un paio di minuti e poi mettiamo il grasso una volta messo il grasso aspettiamo altri almeno 20 30 minuti che si asciughi e aderisca bene quindi ci vediamo tra poco come vedete ho appena passato un po' di carta praticamente è pulita vedete lascia poco residuo ok ok adesso l'abbiamo messo dappertutto possiamo anche andare a pulire qui ok poi se vogliamo guidarci con un po' di petrolio bianco facciamo pure prima io adesso tengo la carta leggera leggera proprio non vado a premere troppo in modo tale da togliere tutto il grasso in eccesso ecco fatto e abbiamo finito ragazzi catena in pezzo da verdane ragazzi anche per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao